Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. È un periodo davvero drammatico in termini di perdite illustri, soprattutto per la televisione italiana. In questo video parliamo di un altro doloroso lutto che colpisce le retirai. Prima di farlo vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Il giornalismo italiano perde un'altra delle sue firme più significative e con grande rammarico che il primone di Marco Liguori annuncia il decesso del caporedattore dell'ANSA e autore di Porta a Porta, Giuseppe Tripaldi, è stato un volto storico ed è stato anche un inviato delle trasmissioni RAI. L'uomo si è spento a 82 anni nella sua casa di Roma. Ricordiamo un grande del giornalismo e della televisione italiana. Il primo anno di Marco Liguori, con grande dispiacere, ricordo Giuseppe Tripaldi, giornalista italiano, scomparso a 82 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Seguitemi anche sul secondo anno di Marco Liguori, il canale dei video di cronaca. Seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale. Ciao a tutti.